Ci sono anche il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, Vittorio Sgarvi e l'Arcivescovo e Metropolita di Campobasso, Monsignor Giancarlo Bregantini, nell'elenco dei testimoni che la difesa di Mimmo Lucano, Sindaco sospeso di Riace, ha presentato nell'ambito del processo Xenia, che inizierà tra pochi giorni. Un'inchiesta della quale si è parlato in tutta Italia e non solo, che vede Lucano sul banco degli imputati, insieme ad altre 25 persone, che in buona sostanza mette in discussione il sistema Riace, definito modello di accoglienza. Per quanto concerne la lista dei testimoni di Lucano, in totale sono 21 le persone e tra queste consulenti tecnici ed esperti sui meccanismi di gestione e rendicontazione dei fondi SPRAR. Dal conto suo, la Procura di Locri invece ha indicato 49 nominativi fra investigatori, consulenti e funzionari della Prefettura. Come detto, la prossima settimana inizierà un processo destinato ovviamente a fare molto discutere.